Secondo circuito, seconda seduta, ok, è good morning, prima fai corpo libero, poi vediamo anche puoi mettere due manubri qua, ok, schiena dritta, vai dietro con sedere, scendi, scendi, scendi e uno, così, gambe leggermente piegate, il movimento va partendo dietro il bacino, così, ok, prima uno, due gambe, poi metti dietro una gamba, così, poi dietro altra gamba, quindi con due gambe, poi altra gamba, una gamba, due, altra gamba, ok, poi devi fare, metti elastico blu, elastico blu, su piedi, così, ok, e fai crunch, avici, blu, anche verde, per mettere, così, ok, e poi devi fare, metti elastico, elastico giallo, in piedi, devi fare abduttori, abduttori in piedi, così, più su possibile, alzare, ok, alzare la gamba, reggi, ok, ripetizione, ti scrivo, questo è il secondo circuito,